Cari amici, pace bene, siamo ancora insieme per sfogliare il nuovo numero di Voce Serafica, quello che io ho tra le mani, il numero di maggio, maggio 2015, quindi di un mese un po' speciale nel corso dell'anno liturgico nel quale cade anche la festa del nostro Sant'Ignazio. Infatti è lui che è dedicato alla copertina di questo numero che ci rappresenta il santo quando era ancora novizio, in quella sera in cui è affaticato, stanco nel portare su e giù per le scale del convento la brocca d'acqua, a un certo punto non ne può più, è stanco e cade davanti alla stata la Madonna, Madonnina mia, non ne posso più e la Madonna che secondo la tradizione risponde al santo e coraggio gli dice, continua come anche mio figlio ha portato la croce così anche tu devi portare la tua… e sappiamo che andò avanti l'anno difficile e denoviziato con la professione poi e poi tutto il seguito che sappiamo. Ecco, questo è un dipinto dello Scano che si trova, mi pare, nel negozietto a fianco alla chiesa e che rappresenta appunto questo episodio che noi abbiamo scelto anche per la copertina di Voce Serafica. Cosa c'è in questo nome? Ecco, rapidamente c'è una poesia che fa un pochino da vetrina, un cespuglio di rosa dell'amico Luigi Cavras, poi il mio editoriale proprio ispirato alla copertina, all'episodio di Sant'Ignazio. Abbiamo anche delle lettere in redazione che vi invito a leggere, scusate, nella cronaca abbiamo anche il resoconto dell'ordinazione della prima messa di padre Antonio Mula di Mores, una cronaca anche dettagliata che ci permette di rivivere quel giorno commovente e soprattutto per lui dell'ordinazione a Mores. Nelle pagine seguenti abbiamo la notizia del capitolo elettivo della Fraternità Office di Sant'Ignazio a Cagliari con i vari incarichi venuti fuori appunto dalla elezione. Nella pagina a fianco abbiamo il programma dei festeggiamenti per Sant'Ignazio. Chiaramente l'anno venne già cominciato e quanti di voi saranno ancora in tempo per leggere il programma, non lo so. Comunque sia, ecco, vi ricordo che la novena viene animata dal predicatore padre Ivan Lai della comunità dei frati minori di San Mauro. Vi ricordo anche i principali appuntamenti, 9 maggio, sabato 9 maggio alle ore 20, la processione col simulacro del Santo per le vie della città, che sarà un itinerario simile a quello dell'anno scorso, cioè via Lefragnazio, via Porto Scala, il corso Vittorio Emanuele, via Tigeglio, di nuovo via Lefragnazio e rientro in chiesa. Questo è il 9, abbiamo scelto di farlo il 9, la processione, perché è di sabato e quindi non si creano grossi intralci al traffico cittadino. Il giorno 10, 10 maggio, domenica, ci saranno le messe come tutte le domeniche e alla termine della serata, dopo l'ultima messa delle ore 19, ci sarà il transito di Sant'Ignazio, che ricorda appunto la morte del Santo. Il giorno 11 maggio, lunedì, è il giorno della festa, le messe sono numerose, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, al pomeriggio alle 17, alle 18 e alle 19. Ricordo che poi alle 6 del mattino, quella delle 6, sarà anche seguita dalla benedizione dei panini, sarà preceduta come vuole la tradizione dal ministro provinciale. Alle ore 8 la messa celebrata dal parago di Sant'Anna, alle 10 la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Caglia di Monsignor Arrigo Miglio e soprattutto alla sera, ricordo e sottolineo la messa delle ore 19 che verrà celebrata all'aperto nel giardino del convento, sarà preceduta dal vescovo di Alghero Bosa, Monsignor Mauro Maria Morfino. Naturalmente vi raccomando di intervenire numerosi, sperando anche nel buon Dio che ci dia una bella giornata anche dal punto di vista meteorologico. E di Sant'Ignazio si parla anche nelle pagine seguenti, Sant'Ignazio dell'Aconi, fratello laico e santo, un articolo di padre Fabrizio Congiugià, parroco di Laconi. Nelle pagine 14 e 15, notizie del mondo francescano, nell'edicola, pagina 16 e 17, l'articolo di padre Michel Coulomb, buon anno, compianto padre Michel, che questa volta parla di Chiara d'Assisi, la sorella di Francesco. Pagina 18, il santo del mese e Sant'Isidoro agricoltore di Andrea Agostino. Per Chiesa viva un'altra Catechesi del Papa sulla famiglia, questa volta dedicata tutta ai figli, ai figli, al ruolo dei figli nella famiglia, a quello che rappresentano, a quello che sono. Pagina 22-23 ritorna, dopo tanti mesi, la rubrica sui salmi, salmi in sardo, salmo 13, su Branto e su Giusto e il salmo 14, su Tututus negausa su Beni. Scusate il mio sardo, ma penso che i sardi mi avranno capito. Salmo 13, salmo 14. Pagina 24-25, c'è ancora la Bibbia, sono i volti della Bibbia. Questa volta il nostro amico Michele Corona ci parla di Miriam, la sorella di Mosè e di Aaron Nicolè, che salvò appunto il fratellino Mosè, che era stato messo su quel cesto e adagiato sulle acque del Nilo. Pagine 26-27-28, ancora nella Cappella Cestina, accompagnati da Tonio Tagliaferri per leggere, interpretare, approfondire e gustare gli affreschi di Michelangelo, soprattutto quello sul giudizio. Pagina 29-30-31, tutto un servizio sulle cause matrimoniali al Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo. Quindi ci sono delle statistiche, delle riflessioni, l'articolo di Mario Girao, ma un intervento anche di Monsignor Milo all'Arcivescovo di Cagliari e poi un box che parla dei costi di una causa davanti al Tribunale, quanto viene a costare una causa. Andando avanti, per artisti d'oggi, Paolo Paes ci parla di, ancora mi pare, c'è il secondo articolo su questo artista originalissimo, Nino Ezzi, si parla della materia e della luce. Le pagine 34-35 sono quelle più leggeri, dedicate la prima alla voce quizzi e la seconda alle barzellette, indovinelli, colmi. Pagine 36-37, siamo con Osvaldo Lillio in questa rubrica che ha incominciato nel numero precedente, dedicata all'architettura bizantina. Ed è la seconda puntata, dedicata questa volta agli inizi dell'architettura bizantina su San Saturnino, due chiese note, San Saturnino a Cagliari e Santa Maria del Meso Mundo a Siligo. Interessante, comunque un invito per chi vuole conoscere meglio la nostra storia, un invito a leggere questi articoli, del resto scritti da una persona competente come l'architetto Osvaldo Lillio. Pagine 38-39 abbiamo le poesie, poesie rime sparse, le ricette, pagina 40, e il giardino del convento, pagina 41. Le ricette sono tipicamente sarde, che sono curate con competenza e con fantasia dal nostro amico Gian Piero Pinna, mentre il giardino del convento ci propone le solanacee ornamentali e anche queste di Marcello Onorato. Vedete voi di dare uno sguardo, c'è sempre qualcosa da imparare un po' in ogni pagina. La pagina 43 abbiamo le fotografie che ci sono arrivate, sia per quanto riguarda le ricorrenze, come le grazie, incontro al Signore, altrimenti noi mettiamo le foto che ci arrivano, che ci arrivano per tempo e non eliminiamo nessuna foto, anche se noi raccomandiamo a tutti che si badi alla qualità anche delle foto, qualità tecnica, perché insomma anche per la dignità stessa della rivista. Nell'ultima di copertina avete la lista dei pellegrinaggi, raccomando ancora una volta, coloro che desiderano partecipare a qualcuno dei pellegrinaggi sono pregati di prenotarsi per tempo, per evitare poi la brutta sorpresa di magari non trovare posto. Bene, questo era tutto, tutto il numero, numero di maggio e lo affidiamo a voi, al vostro buon cuore, soprattutto alla vostra, come dire, comprensione se c'è qualcosa che non è di vostro gradimento. Vi saluto, vi auguro buona lettura e buona giornata a tutti voi. Pace e bene.